Ciao a tutti, io sono Giorgia Fiore e benvenuti nel mio canale Allora, oggi tratteremo di un argomento un po' in maniera divertente Le Birkenstock Le Birkenstock sono un terreno spinoso Possono essere estremamente cool o estremamente... Diciamo che credo che ci sia bisogno di una guida all'uso delle Birkenstock Ovviamente questo è un video ironico, ognuno mette quello che vuole, come vuole Però spesso penso che ci vuole una guida all'uso delle Birkenstock Perché? Perché le Birkenstock fondamentalmente sono una scarpa comodissima Anche super versatile e soprattutto una scarpa di ottico ma qualità Una volta che l'avete acquistata vi durerà degli anni E quindi vale la pena capire come metterla in maniera fashion Allora, per prima cosa facciamo una premessa Dobbiamo a Celine, però, quindi alla direttrice creativa dell'epoca, Febbe Fileo L'arrivo delle Birkenstock nel mondo fashion Celine, quindi Febbe Fileo, reinterpretò la Birkenstock Con questo sandalo un po' alla tedesca, diciamocelo Inserendolo in un contesto molto fashion Come quello di un brand come Celine Questa è la piccola premessa da sapere Perché dobbiamo a lei questo ingresso del sandalo dalla tedesca Nel mondo fashion, tra l'altro comodissimo Birkenstock ha preso quest'occasione lanciata da Celine All'amo e ha deciso di sviluppare un prodotto altamente fashion Infatti adesso ha una linea che si chiama 1774 O 1774, non so bene, credo sia 1774 Che sviluppa proprio un prodotto altamente fashion Ovviamente anche a un costo un po' più alto Realizza anche collaborazioni di co-design, di co-branding con altri marchi Ad esempio adesso in vendita trovate la collaborazione fra Birkenstock e Proenza Schooler Che è una designer famosissima E che ha insieme creato questo prodotto altamente fashion Quindi ormai Birkenstock si può ritenere un marchio totalmente in trend Però dicevamo la Birkenstock è un accessorio molto spinoso Quindi ci tenevo a farvi una piccola linea guida Sui modelli più belli e più facilmente mettibili di Birkenstock Il modello per me migliore in assoluto è l'Arizona Quindi il modello con due fasce Ed è quello facilmente mettibile da chiunque Più facilmente abbinabile rispetto a tutti gli altri modelli E ne esiste in una gamma di varianti veramente infinita C'è dalla Eva che è quella in gomma di un colore che io adoro tutta nera A quella di Proenza Schooler al prezzo più alto Tutta in pelle estremamente bella Altro modello molto carino è il modello Milano Che è quello con due fasce in più la fascia dietro la caviglia Questo anche è un modello molto cool secondo me L'unica cosa che rispetto all'Arizona Se lo volete mettere con le gonne e con i pantaloccini Tende un po' ad attuzzire in più Quindi l'Arizona secondo me è più facilmente mettibile Da tutte le body shape e su tutti i look Il modello Madrid è una versione un po' più ciabatta dell'Arizona Quindi ha solo una fascia Io lo trovo molto carino Non amo perché io non amo ciabattare in generale Non amo tutte quelle cose che mi lasciano il tallone troppo libero Preferisco sempre l'Arizona E ultimo non molto spesso visto è il modello Florida Che secondo me andrebbe rivalutato Forse ne comprerò un paio Perché è veramente cool E veramente poco visto Quindi E adesso un po' di mini tips Birkestock col calzino Si o no? Si con un bel calzino Quindi che può essere un calzino di lana Un calzino lavorato Un calzino prezioso Sì Sappiate che attozisce Ma sì No con dei calzini a caso No con i calzini con i pallini No con i calzini in spugna Birkestock con la gonna o con il jeans Entrambe dipende dal vostro fisico Se siete slanciate potete metterlo Sia con il pantalone Che con la gonna Lì fa la differenza Sia il modello di pantalone Sia il modello di gonna Quindi in quel caso Quanto vi slanciano meno Dipende dalla lunghezza della gonna Non più dalla Birkestock Però l'Arizona sta con tutto Le Birkestock in città o al mare Secondo me la Birkestock in pelle È una dei pochi sandali Che io accetto in città In piena città Anche a Milano Perché Tiene protetto il piede Dalla sporcizia Che c'è per strada Quindi è l'unica Che ammetto in città Io non amo avere i sandali flat In città Perché Mi fa un po' schifo Però questa è una valutazione mia Adesso Spero che il video Vi sia piaciuto Era un video molto breve Ma con una guida all'uso Delle Birkestock E niente Se vi è piaciuto Mettete like E iscrivetevi al canale Io vi mando un bacio Ci vediamo la prossima volta